Ho preso il bel voto! Ho perso il pallone! Ti aiuti papà! Manno, ho fatto una torta! Eh sì, ci sono tanti momenti per un Kinder Sorpresa. Kinder Sorpresa, a merendo per il mio tesoro. È bello vederli felici, vederli giocare. E con Kinder Sorpresa io sono tranquilla, perché è di buon cioccolato Kinder. Dalla Ferrero Kinder Division, alimentazione specializzata per i ragazzi.